Victor Sanders l'uscita da parte di Michael Bramos, tripla corta, Theodor ha chilometri di spazio e non può esimersi dal prendere e mandare a bersaglio la prima tripla della sua serata. Su quattro invece con cui risponde Venezia, ne ha sbagliata una a Bramos, ne ha segnata invece una a Jordan Theodor che si prende sulla sirena dei 24, anche questa è parte dell'ex Brindisi. Ne ha segnate già due Jordan Theodor, gliene concedono un'altra e gli concedono anche tre tiri liberi. Ovviamente per la difesa rocranata non lasciargli queste soluzioni e non metterlo troppo in ritmo. A proposito di personaggi in ritmo e non in cerca d'autore come avrebbe detto Pirandello, sicuramente stasera sta facendo le pentole e anche i coperchi un po' come il diavolo Jordan Theodor. Probabilmente il penultimo di Venezia, Jordan Theodor, letteralmente on fire. Jordan Theodor allora può spingere il primo possesso offensivo effettivo perché quello in precedenza era stato letteralmente gettato alle ortiche. Jeff Brooks riceve il ribaltamento di lato da parte di Jordan Theodor, potrebbe servirlo nuovamente e lo fa a Theodor, ne ha già mandato a bersaglio tre, manda a bersaglio anche la quarta tripla di serata. E adizione in carriera ha segnato tanti canestri così come ne ha segnati tanti anche Michael Bramos dalla punta. Qui Watt letteralmente una calamita nei confronti del possesso, arma la mano di Jordan Theodor e quando mancano sostanzialmente 16 minuti e 24 secondi al termine dei tempi regolamentari, Jordan Theodor ha già eguagliato il proprio carriera in Serie A, lui che ne aveva messi 21 quando vestiva la maglia della X-Armand Exchange Milano, però commette una palla persa abbastanza ingenua. Allora, può correre stavolta Jordan Theodor che vorrebbe e ottiene canestro valido, possesso show di Blending da parte di Jordan Theodor che poi serve fuori Jeff Brooks, finta di passaggio e ribaltamento nel lato debole per Michael Bramos, trova la sfera fortunosamente Jordan Theodor, tanto basta però per piazzare il buzzer che brucia la sirena e portare sul 64-50 la sua formazione.